Ed eccole qua, gruppo compatto, volata e i caschetti rosa della categoria G4 In zona nel frattempo c'è un allungo, c'è un allungo lì davanti E un allungo veramente potente perché va a guadagnare una decina, quindicina di metri Nei confronti di tutti gli altri Vittoria nettissima Ed è proprio lei, Silvia Pirrone Menderspec, la sorella d'arte Allo scorso seconda, questa vittoria da volevo Sì Com'è andata questa volata, raccontaci Eh, lì sono partita, poi ho visto che non ce la faceva più nessuno, allora racconti ma Ascoltaci una cosa Dove è tua sorella in questi giorni? E a caso in quale parte del mondo? In Olanda Ah ok, quindi anche tanto lontano dai, se possiamo così dire Anche se magari vi vedete poco, quali sono i consigli della sorella maggiore che ti dà? Anche se quest'anno ti abbiamo visto molto cresciuta Andate d'accordo? Abbastanza Abbastanza, questa è una bella risposta Allora sono quasi pronti dalla zona di partenza Dici perché la dedica a questa vittoria Ai miei genitori, a mia sorella e alla mia squadra Grazie 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 Grazie